Io nella prima telefonata ho capito che cosa significasse energia in una campagna. L'emozione viene da exmovere, vuol dire muovere fuori, commuovere. Allora il modo che noi abbiamo di tradurre energia in una campagna è suscitando emozioni. L'idea che mi è stata proposta di lavorare con Roberto, fruttuante nell'aria, guarda mi emoziona ancora a dirle, abbiamo appena finito il lavoro, era sicuramente un modo di emozionare noi stessi e quindi se ci emozioniamo noi riusciamo a emozionare gli altri. Non c'è un altro modo di creare energia per questo tipo di lavori, se non quello di andare a toccare il cuore. Grazie